eccoci in questo nuovo video del corso di formazione sulle facebook ads per attività locale professionisti nella lezione precedente abbiamo visto come creare una campagna con l'obiettivo di generare contatti quindi acquisire contatti di potenziali clienti interessati al tuo prodotto servizio in questo in questo video voglio invece condividere con te la creazione di una campagna con un altro obiettivo quindi sempre un obiettivo che è molto utilizzato soprattutto in ambito di attività locale professionisti come quello di generazione contatti nel caso specifico vedremo come costruire nel dettaglio quali sono le configurazioni di una campagna con obiettivo interazioni quindi con l'obiettivo di cercare di entrare in contatto con persone che vanno a interagire con i tuoi contenuti quindi vanno a mettere mi piace condividono commenti che mandano messaggi alla pagina che seguono le pagine e tutta questa serie di operazioni che vanno a aumentare quello che è appunto il tasso di interazione con la tua realtà per fare in modo che si presenti bene a livello locale soprattutto si faccia conoscere scrivi un posizionamento a livello locale vediamo insieme come farlo passiamo direttamente a video cliccando sul bottone crea come abbiamo visto l'altra volta a questo punto vado un pochettino più veloce perché i dettagli abbiamo visto nella lezione precedente in questo caso voglio semplicemente darti un'idea di quello che puoi fare andando a configurare una campagna con un altro obiettivo comunque andando poi a configurare le campagne per i vari obiettivi dammi un attimo che carichi la dashboard e passiamo all'azione eccoci che ha configurato la dashboard il nostro obiettivo in questo caso è interazione quindi andiamo a cercare andiamo a dire a facebook che vogliamo costruire una campagna che ha l'obiettivo interazione e quindi nello specifico che ha l'obiettivo di raggiungere quelle persone che ci permettono di aumentare mi piace sulla pagina risposta agli eventi oppure reazioni ai commenti e condivisioni del post quindi selezioniamo interazione e clicchiamo su continua come vedi prima di cliccare su continua facebook ci mette in evidenza la possibilità di selezionare vari tipi di interazioni quindi possiamo scegliere se vogliamo interazioni con i post quindi andiamo a pubblicare dei post per i quali vogliamo che le persone mettano mi piace condividi commenta oppure un altro tipo di interazione può essere quello che vogliamo che le persone mettano mi piace alla pagina oppure che ci rispondano a vento tendenzialmente per la mia esperienza quello che ti posso dire che funziona meglio e che poi fa sia un'operazione di interazione con i post anche mi piace sulla pagina è il primo quindi se utilizzi il primo stai dicendo a facebook comunque di interagire con persone che mettono mi piace condividono e commentano il tuo contenuto allo stesso tempo queste persone una volta che lo fanno hanno comunque un tuo feedback iniziano già a creare una relazione poi di conseguenza metteranno anche mi piace alla pagina o comunque potrai invitarle a mettere mi piace alla pagina quindi l'obiettivo che ti consiglio in questo caso è tipo di interazione interazione con i post come dicevamo nelle altre nella videata precedente qui ci propone facebook direttamente di attribuire un nome alla campagna gruppo di sostegno eccetera noi clicchiamo su continua perché poi come abbiamo visto possiamo andarlo a definire anche in un momento successivo ora in questo caso andiamo a creare quello che è il contenitore quindi una nuova campagna che ha come obiettivo in questo caso interazione quindi non generazione contatti obiettivi diversi quindi ovviamente per scopi diversi tendenzialmente come vedi la dashboard di configurazione la medesima va assegnato quello che è un nome alla campagna i dettagli della campagna sono asta con obiettivo interazioni poi possiamo come abbiamo visto altre volte configurare alcune informazioni aggiuntive che però ti consiglio di non configurare la b test che poi faremo a mano come abbiamo fatto per il gruppo di pubblico nella campagna precedente e potrei farlo anche per le singole inserzioni quindi poi lo vedremo manualmente ottimizzazione del budget il mio consiglio è quello sempre di impostarlo sulla campagna in questo caso trattandosi avendo impostato un budget donaliero 10 euro su una campagna generazione contatti il mio consiglio su una campagna di questo tipo è andare a configurare un budget di 5 euro fondamentalmente può essere più che sufficiente poi ovviamente va tarato in base alla zona geografica al numero di persone che ci sono potenzialmente raggiungibili eccetera però è considerabile un buon budget di partenza un 10 euro per una generazione contatti un 5 euro per l'interazione ovviamente non vuol dire che devi avere queste due campagne attive nello stesso momento ripeto a seconda di quelli che sono i tuoi obiettivi aziendali vai a configurare degli obiettivi all'interno di facebook una volta configurato il budget vai a selezionare il gruppo di inserzioni e quindi come abbiamo visto nella lezione precedente vai a configurare quello che è il tuo gruppo di pubblico quindi potrai andare a configurare appunto le se vuoi interagire con un pubblico personalizzato con un pubblico basato sulle demografiche o sul pubblico che magari ha già messo mi piace alla tua pagina dove mostrare le tue inserzioni e così via quindi come vedi come ti dicevo vado molto veloce perché sono tutte sezioni che abbiamo già visto qui puoi andare a definire ovviamente il nome del gruppo di inserzioni il budget della programmazione se vuoi metto una data di inizio e una data di fine diverse da quella proposta lo stesso discorso legato alla limitazione di spesa dei gruppi di inserzioni che facevamo nel video precedente in questo caso puoi come sempre andare a definire se vuoi interagire con un pubblico personalizzato prima opzione seconda opzione puoi andare a interagire con un pubblico basato sulle demografiche quindi luoghi età e genere oppure un pubblico basato sugli interessi quindi a seconda del tuo interesse andrai a selezionare il pubblico di riferimento anche con l'occhio di riguardo per quanto riguarda le lingue eventualmente nel caso in cui tu voglia andare a interagire in questo caso specifico con persone che seguono già la pagina ti basterà andare a nella sezione delle connessioni e configurare come avevamo visto la connessione per questo scopo appunto quindi aggiungi tipo di connessione persone a cui al momento piace la pagina quindi andando a selezionare questo gruppo di pubblico tu andrai a diciamo dire che vuoi interagire con le persone che hanno già messo mi piace già che conoscono ovviamente è una valutazione che puoi fare allo stesso tempo trattandosi di un'attività locale il mio consiglio come anche per quanto riguarda la campagna precedente che l'abbiamo fatta a livello di spiegazione quindi a livello di test il mio consiglio a livello locale è quello semplicemente di andare a definire delle caratteristiche geografiche quindi andare a trovare un punto sulla mappa è trovare o determinare un raggio d'azione delle tue campagne oppure andare a definire proprio i cap specifici definire l'età e il genere senza stare a inserire troppi pubblici personalizzati o interessi particolari perché fondamentalmente è un bacino di utenza che bene o male riuscirai a raggiungere quindi senza andare a complicare troppo la vita il mio consiglio per un'attività locale sia che stai facendo campagna per interazioni che che stai facendo campagna per generazione contatti è quella di utilizzare dei pubblici aperti quindi fondamentalmente andare a targettizzare le persone solamente per area geografica età e sesso successivamente anche qui puoi andare a determinare quelli che sono i posizionamenti e l'ottimizzazione per la pubblicazione delle inserzioni in questo caso noi avevamo messo a monte l'interazione con i post però lui ci propone altre ottimizzazioni quindi impression vorremmo far vedere le comunicazioni alle persone giuste che mettono mi piace eccetera in che modo vorremmo farle vedere volemmo farle vedere alle persone più volte durante la giornata magari oppure vorremmo mostrare le inserzioni alle persone giuste per allinearti appunto ottenere il numero di piace che cerchi quindi a seconda di quello che è il tuo obiettivo che a priori è l'obiettivo interazioni in questo modo andrai a definire in modo dettagliato quello che potrebbe essere un tuo sotto obiettivo in modo tale da far capire a facebook nella realtà nello specifico che tipo di ottimizzazione vuoi che lui faccia successivamente le altre informazioni aggiuntive che ripeto sono informazioni appunto valore di controllo del costo un'informazione impostazione avanzata che ti consiglio di non gestire stesso discorso della frequenza dei addebiti che anche in questo caso non è modificabile venendo poi una volta che hai configurato il gruppo di pubblico anche in questo caso hai la possibilità di andare a configurare quella che è la tua inserzione il mio consiglio quando vai a investire in pubblicità o in campagne facebook che hanno con obiettivo interazione il mio consiglio è quello di cercare di utilizzare e di promuovere dei post già esistenti sulla pagina perché questo obiettivo interazioni ti dà modo di avere mi piace commenti positivi recensioni e interazioni con la pagina tutta questa serie di operazioni che avere un post che sulla tua pagina presente in bacheca con un sacco di commenti un sacco di mi piace un sacco di interazioni è sicuramente positivo per un cliente che atterra per la prima volta sulla tua pagina e vede quel contenuto perché vede che quel tuo contenuto piace molto alle persone e quindi è per quello che nel caso di quando vuoi andare a fare campagne per interazione non ti consiglio di creare un'inserzione da zero ma utilizzare appunto un post esistente come poi te lo propone lui di default allo stesso tempo come ti dicevo selezionando usa post esistente lui ti dà la possibilità di selezionare uno dei post che hai già pubblicato sulle pagine in questo caso essendo una pagina di test non ne abbiamo una a disposizione quindi clicchiamo su crea inserzione e noi in questo caso ne creiamo da zero come si fa a creare una da zero come avevamo visto nella lezione precedente ti basterà andare ad inserire quelle che sono le informazioni principali quindi un'immagine un video un testo principale e il titolo la call to action quindi l'azione che vuoi che l'utente faccia nel caso specifico ovviamente trattandosi in questo caso di una campagna con obiettivo interazioni non troverai tutti i diciamo le call to action gli inviti e l'azione che trovavi in una campagna di generazione di contatti proprio perché l'obiettivo della campagna è diverso e facebook in questo caso ti proporà alcune inviti all'azione collegate a quello che è l'obiettivo della campagna quindi interazioni che può essere scopri di più invia un messaggio acquista ora anche invia un messaggio su whatsapp perché hai la possibilità di collegare il tuo whatsapp alla pagina facebook in modo tale che quando le persone ti iscrivono su facebook hanno la possibilità di iscriverti anche direttamente su whatsapp questa cosa potenzialmente potrebbe essere molto comoda soprattutto se utilizzi whatsapp o whatsapp business come strumento appunto per lo sviluppo della tua attività quindi questo per quanto riguarda una configurazione di una campagna con obiettivo interazioni successivamente volevo farti vedere brevemente una schermata per quanto riguarda la configurazione o meglio come puoi andare a configurare i copy sebbene nella lezione precedente abbiamo visto come poter fare un test per quanto riguarda i gruppi di pubblico perché abbiamo creato una campagna con due gruppi di pubblico all'interno del quale c'era un gruppo di pubblico con interesse dello yoga un gruppo di pubblico con interesse del crossfit ma avevamo lasciato la stessa inserzione la stessa immagine lo stesso testo in quel modo andavamo a testare diciamo il gruppo di pubblico appunto mettiamo il caso in cui abbiamo questa inserzione che chiamiamola in questo modo ti faccio un esempio per farti capire perché poi nella tab qui di fianco ho degli esempi pratici diciamo che ovviamente il nome adesso lo metto brevemente anzi facciamo così riepiloghiamo utilizziamo le linee guida per quanto riguarda la nomenclatura dell'inserzione torniamo sulla nostra paginetta qui a fianco scorrendo sopra che c'erano questi appunti copiamo questo qui è il nostro nome dell'inserzione all'interno del nostro gruppo di pubblico e in questo caso è un'inserzione che nel copy va a parlare del brand proponendo un'offerta specifica che può essere una consulenza gratuita eccetera in questo caso possiamo andare a prendere magari un contenuto o un testo che noi abbiamo già sviluppato che va appunto a mettere in evidenza quelle che sono le caratteristiche del tuo brand quindi un copy un testo che avevamo già sviluppato che mette in evidenza le caratteristiche del brand adesso qui l'avevo già sviluppato brevemente poi puoi darci un'occhiata per prendere spunti magari da utilizzare all'interno dei tuoi copy copiamo questo e lo incolliamo nella sezione del testo e questo qui comunque come dice poi la nomenclatura è un tipo di inserzione all'interno del quale noi stiamo andando ad utilizzare in questo caso la discriminante come testo un testo che parla del nostro brand e quindi infatti qui di sotto qui a fianco vedremo che parla del branding quindi ci dà un riferimento di che tipo di testo stiamo utilizzando in questa inserzione poi in questo caso non sarà l'ending page ma sarà interazione anzi modifichiamolo facciamo un esempio pratico perché sarebbe ad esempio 3103 e comunque utilizziamo un'immagine quadrata ipotizziamo che cosa succede quando una persona clicca su quella inserzione il nostro obiettivo è quello di fargli fare un'interazione che può essere un mi piace eccetera la nostra inserzione che utilizza un'immagine inquadrata ha un testo che va a esporre quello che è il nostro brand proponendo una consulenza gratuita mettiamo il caso in cui vogliamo testare un altro testo un altro copy che non vada a parlare del brand ma parli ad esempio in questo caso un altro esempio che ti avevo fatto vada a esporre quelli che sono i benefici del prodotto in questo caso noi cosa possiamo fare? adesso io ripeto ricopio questo testo che ho sviluppato perdonami ho sbagliato ricopio questo testo che avevo sviluppato che va a parlare appunto mette al centro del testo proprio quelli che sono i benefici perché qui sopra metterai il tuo prodotto servizio e spiegherai qual è il beneficio che dà quindi se vuoi andare a fare un test suddividendo per la stessa immagine magari ma testando un copy diverso quindi questo qui parla del branding non dovrai fare altro che duplicare l'inserzione sempre all'interno dello stesso gruppo di inserzioni e a questo punto andare a copiare il testo che invece va sempre a proporre magari la stessa offerta ma declinata nel formato in cui all'interno del testo non vai a parlare del tuo brand, della tua attività ma vai ad esporre in modo chiaro vai subito al punto, dritto al punto per quel che riguarda i benefici del prodotto diamogli un attimo che carica poi lo vediamo insieme eccoci che ha caricato come vedi noi abbiamo duplicato l'inserzione precedente che aveva il copy che al suo interno andava a parlare del brand in questo caso non dovrai fare altro che cancellare tutta la parte testuale e andare a copiare oppure a scrivere un nuovo testo che a questo punto invece mette in evidenza quelli che sono i benefici quindi qui sopra come riferimento avrai come nominativo dell'inserzione te lo faccio vedere da qua che è magari più chiaro avrai come nominativo dell'inserzione non più un copy che parla del brand ma un copy dove vai a parlare appunto dei benefici questo copy possiamo toglierlo perché non ci serve e in questo modo hai visto come ripeto nella campagna precedente abbiamo fatto un test per quanto riguarda il gruppo di pubblico tra yoga e crossfit testando la stessa immagine e lo stesso testo ad esempio in questa campagna ti ho fatto vedere un esempio di un'altra campagna con un altro obiettivo dove non stiamo più testando il gruppo di pubblico perché il gruppo di pubblico è uno all'interno del quale però abbiamo inserito due inserzioni due inserzioni che potenzialmente hanno la stessa immagine ma che hanno un testo diverso la prima inserzione è un testo che parla dei benefici che ha il focus sui benefici del prodotto o servizio che proponi la seconda ha la stessa immagine ma va a parlare con un testo, un linguaggio che esprime le caratteristiche della tua attività in questo modo all'interno dello stesso gruppo di pubblico andrai a testare due inserzioni diverse quindi con due copy diverse in modo tale da capire quale delle due ganci ti sono più utili per attirare il maggior numero di clienti come sempre una volta terminata la tua campagna configurata ti basterà far altro che controllarla e pubblicarla e nel momento in cui vorrai attivarla a meno che, ripeto, l'interruttore della campagna non sia già configurato su attivo dovrai andarlo ad attivare per questo video è tutto ti ho fatto un esempio di una campagna con un obiettivo aggiuntivo rispetto alla generazione di contatti perché tendenzialmente per esperienza per un'attività locale o un professionista questi due sono i due obiettivi principali diciamo da portare avanti ovviamente un'attività locale o un professionista ha la necessità di farsi conoscere a livello locale quindi crearsi un posizionamento e quindi avere comunque delle interazioni sulla pagina e questo lo puoi fare con una campagna specifica con obiettivo o interazione all'interno della quale sono configurati gruppi di pubblico e inserzioni, immagini e testi e allo stesso tempo avrai bisogno come in qualità di attività locale o professionista ma comunque qualsiasi tipo di attività di aumentare i clienti e quindi di conseguenza aumentare il fatturato e questa cosa la puoi fare con una campagna di generazione di contatti come abbiamo visto nella lezione precedente per questo video è tutto noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.